Amici di InterTV.it, bentornati da Michele Borrelli alle video news con la giornata di mercato, ultima puntata di questa prima parte, di questa prima metà, ormai più di un mese e mezzo in cui abbiamo seguito giornalmente, quotidianamente il calcio mercato dell'Inter. Tornerà l'appuntamento con la giornata di mercato su InterTV.it nell'ultima settimana di mercato, quindi dal 24 al 31 agosto, alle 23 del 31 agosto il gong dopo la seconda giornata, quindi il 27 di luglio, non il 28, ma il 27 di luglio nella sede dell'Expo di Milano ci saranno i calendari, già prima anche la Coppa Italia, il 27 luglio il campionato, il 31 di agosto alle ore 23 chiuderà il calcio mercato. Lui seguiremo l'ultima settimana, torneremo con Obiettivo Inter, con la giornata di mercato, con la videorassegna, con tutte le rubriche, anche con nuove sorprese, ma nelle prossime settimane non vi lasceremo senza aggiornamenti sia per quanto riguarda il mercato ma anche le amichevoli, naturalmente tutto da InterTV.it e dai nostri vari social network, la nuova pagina Facebook che invitiamo sempre a visitare e anche a condividere per quanto riguarda sia i contenuti ma anche la pagina e appunto a cliccare sul mi piace. Per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti, oltre alle smentite ormai frequenti di Martina sulle trattative per quanto riguarda Vidic o l'interesse in questo caso dell'Everton per quanto riguarda il giocatore serbo o un possibile ritorno in Inghilterra, vedremo se Martina dice la verità anche perché un giocatore tra i centrali, l'abbiamo sempre detto, deve uscire, quindi Andreolli potrebbe essere sostituito da Longo per quanto riguarda la lista degli otto, composta ad oggi da Berni Andreolli, Santon, lo stesso Di Marco aggregato ormai stabilmente alla prima squadra così come Biabbianite serato quest'anno ma poi anche gli altri tre del vivaglio italiano come Icardi, D'Ambrosio e Ranocchio, se parte uno di questi bisogna sostituirlo con un altro cresciuto nel vivaglio italiano, Longo potrebbe essere utile sia per questo sia per essere un attaccante di scorta, comunque un'alternativa anche ai Cardi e non solo, lui ha dichiarato oggi, ieri e nelle ultime ore, nelle ultime giornate di stravedere anche per Rodrigo Palazio, un attaccante di grande movimento, quindi vedremo come si evolverà la situazione della lista degli otto, della lista dei 25, bloccate le trattative per il terzino sinistro e per il regista anche se il mercato potrà riservare sorprese per quanto riguarda le uscite non solo in difesa ma anche a centrocampo, potrebbero essere utili dei rapporti o delle amicizie con altre società anche straniere così come il Siviglia che aveva già trattato per esempio Guarin nelle sessioni di mercato passate potrebbe tornare alla carica sia per Guarin ma magari anche per uno dei terzini dell'Inter tra i quali appunto Santon, poi bisognerà anche però raccogliere il gradimento dei vari giocatori. Quello che però interessa di più in queste ore prima della partenza per la Cina si è concluso il ritiro a Riscone di Brunico, sta per iniziare la Dieci Giorni in Cina dove l'Inter affronterà il Bayern Monaco il 21 martedì, poi il Milan il primo derby di stagione dopo quello vinto a Monte Carlo sul mercato per Condobbia ma anche il Real Madrid il 27 prima del ritorno in Italia dove l'Inter ritroverà Miranda, ritroverà Medel magari anche un nuovo se non due nuovi acquisti soprattutto attaccanti prima poi di ritornare ad agosto sul centrocampista e sul terzino magari anche prima sugli attaccanti la situazione Mancini e Ausilio sperano ancora di fare l'operazione in questa settimana, la prima operazione, l'altra è sempre più in stand by perché si riaprono gli spirali sull'altra naturalmente ci riferiamo alla situazione dell'extracomunitario, ancora un posto per l'Inter tra Jovetic e Salah, abbiamo sempre detto l'Inter sta aspettando l'evoluzione della situazione di Salah, il Chelsea che è partito senza il giocatore per la tournée in Nord America quindi Murigno dovrebbe, consentirà anzi alla cessione del giocatore, la Fiorentina in un primo momento avrebbe voluto non vedere il giocatore soprattutto in Italia, soprattutto all'Inter ma se verrà accontentata con un indennizzo e con magari qualche giovane come abbiamo anticipato ieri che può essere utile a Paolo Sosa potrebbe anche far decadere questa ultima opzione cioè il fatto di chiedere al Chelsea per non andare alla FIFA e per non perdere dell'altro tempo e anche fare una causa in un tribunale naturalmente sportivo in questo caso alla FIFA potrebbe anche consentire a togliere questo veto di un Salah in Italia, aveva indispettito la Fiorentina il fatto che il procuratore di Salah avesse detto chiaramente che lui sarebbe rimasto in Italia, l'Inter rimane alla finestra così come anche la Roma, l'abbiamo detto tante volte, la Roma che potrebbe essere interessata al giocatore, Roma che però ha più esterni dell'Inter e quindi potrebbe avere anche necessità come per l'Inter in difesa di sfoltire il reparto d'attacco. Nei giochi degli incastri, Jovetic anche resta una possibilità concreta ma nelle prossime ore si cercherà di accontentare Mancini per quanto riguarda Cerdan Shakiri in uscita con il presidente dello Schalke 04 che entra in campo per spiegare il progetto e il futuro dello Schalke che per la prima volta negli ultimi anni non va in Champions League ma in Europa League, cambia guida tecnica, c'era stato Di Matteo ma potrebbe rilanciarsi presto dopo anni il Borussia Dortmund e lo Schalke non vanno in Champions e sono sostituiti da Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach insieme al Bayern Monaco e al Bayern Leverkusen, proprio il Wolfsburg è l'altra squadra che interessa in questo momento, con cui all'Inter interessa trattare in questo momento naturalmente per Ivan Perisic. I soldi che l'Inter prenderebbe dallo Schalke per Shakiri verrebbero interamente girati al Wolfsburg per Perisic. Bisogna concretizzare il tutto, Perisic è d'accordo con l'Inter, il Wolfsburg per una somma che va tra i 15 e i 18 milioni di euro, magari 2-3 subito e 15 l'anno prossimo con obbligo di riscatto potrebbe accettare, anzi dovrebbe accettare anche perché ha tanti giocatori in quel reparto. L'ultimo tassello è appunto la volontà di Shakiri di accettare lo Schalke perché lo Schalke ha ormai ammesso di essere molto interessato al giocatore, al di là anche della partenza di Farfan che comunque ha 31 anni, mentre Shakiri ne ha solo 24. Al di là dell'opportunità dell'operazione c'è di preferire Perisic a Shakiri, da questo punto di vista credo che bisogna fidarsi anche dell'allenatore visto che sarà lui poi a perseguire il progetto tecnico. Shakiri ha forse qualcosa in più dal punto di vista della fantasia, più fantasista, più fantasioso. Perisic potrebbe avere qualcosa in più dal punto di vista sia del fisico, perché ha quasi un metro e novanta, quindi della fisicità, dell'impatto e anche dal punto di vista tattico potrebbe permettere a Mancini anche di evolvere lo schema in un 4-4-2, in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1, più di Shakiri nella fase difensiva potrebbe dare una mano anche nel 4-4-2. Potrebbe giocare naturalmente anche nei tre d'attacco perché la sua duttilità è riconosciuta, lui è un destro che gioca a sinistra quindi potrebbe giocare in effetti anche a destra. Sono ore importantissime per la conclusione dell'affare perché si potrebbe tentare anche miracolosamente di aggregarlo alla squadra per la tournée in Cina e iniziare già le prime prove tattiche. Ripetiamo, l'ultimo tassello è il sì definitivo di Shakiri al progetto dello Schalke 04. Per quanto riguarda tutte le altre situazioni, al momento l'Inter si concentrerà sul reparto offensivo, quindi Perisic con l'uscita di Shakiri, poi l'extragomunitario all'attesa per vedere come finisce per Salah nel caso in cui va alla Roma o comunque non dovesse andare all'Inter la chiusura dell'affare Jovetic, poi il ritorno di Medel e di Miranda a fine mese con la squadra per completare la rosa e poi naturalmente le uscite per cercare di chiudere anche per il centrocampista e per il terzino. Lì saranno necessarie le uscite oltre a Shakiri di altri giocatori come potrebbe essere ancora Guarin, Santon. Si stringono dei rapporti amichevoli anche dal punto di vista del mercato con il Siviglia che era già stato interessato nelle scorse sessioni di mercato a Guarin potrebbe tornare alla carica e vedremo se le parole sia di Juan ma anche dello stesso di Guarin di Eterno Amore all'Inter sono dovute anche al fatto, così come per esempio anche quelle di Vidic o dei loro procuratori sono legate anche al fatto che magari non ci sono proposte allettanti, abbiamo detto per Santon il Watford, per Shakiri finora era stato lo Stock City, quindi vediamo se poi ci saranno delle proposte che potranno attirare di più anche i vari giocatori che potrebbero non essere al centro del progetto di Mancini per l'Inter 2015-2016. Un caro saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito o gli interisti che ci hanno seguito da tutte le parti del mondo, abbiamo ricevuto messaggi in questi giorni dal Sud America, dal Centro America, dall'Europa, un po' da tutti i paesi, anche bello grazie alla Web TV essere in contatto con tutti quanti voi, vi ringraziamo per la fiducia e vi invitiamo naturalmente a seguire intertv.it anche per le notizie testuali nelle prossime settimane, magari anche video e presto all'inizio del campionato, con l'ultima settimana di mercato, ripetiamo, quest'anno si comincia presto, si comincia prima, il 23 agosto in campo per la prima giornata di campionato al Meazza, Stadio Giuseppe Meazza, quindi ci vediamo presto anche con le video news, con le ultime giornate di mercato e con l'evoluzione delle trattative, così come le prossime settimane di Amichevoli estive, un programma che vedrà l'Inter oltre alle partite importanti, col Bayern Monaco, il Real Madrid e il Milan, giocare con Galatasaray, tra il Bilbao e il Cappatene, poi ancora il Milan nel trofeo team con Milan e Sassuolo il 12 di agosto, rimanete con noi a presto su intertv.it anche con i programmi sulle frequenze di Caffè TV24 e su naturalmente la nostra web tv, quindi su intertv.it, un saluto a tutti e buone vacanze per chi andrà in vacanza e buona Milano per chi resterà a Milano nei prossimi giorni, da Michele Borrelli sempre Forza Inter, ciao a tutti!